Il tema della trasparente dei finanziamenti, forse perché l'unica vera modo di finanziare in maniera trasparente i partiti resta il finanziamento pubblico. Noi abbiamo provato, almeno attraverso questa legge, però è dei limiti al finanziamento privato. Se il finanziamento corrisponde ad una visione, diciamo, ideale, come dovrebbe essere, intanto io non capisco perché le persone giuridiche debbano finanziare i partiti. Secondo, non capisco perché alcuni soggetti possono finanziare anche più partiti, a volte di destra, di sinistra e di centro contemporaneamente. Possiamo mettere dei limiti a tutto questo oppure facciamo una discussione finta anche sul tema del finanziamento privato? Allora, concludendo, io penso che era una discussione interessante, avremmo potuto realizzare una legge utile per i cittadini, alla fine mi pare che la montagna abbia prodotto il topolino e anche questa contrapposizione tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico mi sembra largamente finzione perché nella realtà in questa legge c'è realmente poco. La ringrazio, onorevole Quaranta. Il Governo ha facoltà di intervenire, ma immagino che si riservi. A questo punto cominciamo la discussione con gli iscritti. Onorevole Pisicchio è il primo iscritto a parlare. Prego. Grazie, onorevole Presidente, onorevoli conreghi, onorevole rappresentanti del Governo. Da molti anni ormai nel nostro Paese è in voga una narrazione che demonizza i partiti politici. Eppure andrebbe riflettuto sul debito che la democrazia repubblicana ha con i partiti. Un costituzionalista del calibro di Crisafulli ricordava come la Repubblica italiana debba qualcosa di importante al Comitato nazionale di liberazione, il comitato formato dai partiti antifascisti che governarono la transizione verso la democrazia costituzionale. Ai partiti si deve anche la sobria etica pubblica incarnata dai cosiddetti testimonial.